Ciao a tutti e ciao a tutti, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto non fate caso a questo. Sono malata, ma ho deciso comunque di fare questo video perché non volevo mandarla troppo per le lunghe. In ogni caso, sono qui per farvi il video dei miei regali di Natale. Cosa ho ricevuto a Natale quest'anno? Come sempre ho ricevuto delle cose meravigliose, spaziali, stupende e faccio questo video non per vantarmi, voglio che questo sia chiaro. Faccio questo video semplicemente perché credo che queste cose siano adatte al mio canale che potrebbero essere delle idee regalo per voi o per i vostri amici, insomma, senza contare che me lo avete richiesto in tantissimi. Quindi, ecco, questi sono i miei regali di Natale. Ve li prendo a caso randomicamente, così non faccio gerarchie, così non faccio preferenze e direi di incominciare da quelli che mi sono autoregalata. Ecco, così ce li doliamo e poi andiamo ai regali degli altri. Il mio primo grandissimo regalo ancora non arriva. Non arriva perché l'ho ordinato, se non sbaglio, il 23 o il 24, insomma, un po' in ritardo e dovrebbe arrivarmi in questi giorni, domani, dopodomani. Ed è una ring light. Vi metterò la foto, insomma, in sovraimpressione. Sapete, io faccio video con la luce naturale, ma molte volte mi è impossibile perché magari piove o perché magari torno tardi quel giorno e quindi la mattina non li posso girare, anche perché ho una camera un po' strana. Ecco, in questa camera non c'è molta luce, dunque è sempre difficile trovare l'ora del mattino esatta per girare il video. E quindi ho deciso di fare questo investimento e comprarmi la ring light. Ha la luce a LED ed è di 48 cm, so soltanto questo. Purtroppo non l'ho ancora provata, non so come funziona, spero bene. In ogni caso, quando avrò quella luce, molto probabilmente vedrete la postazione cambiare perché ecco, non mi metterò più qui davanti alla finestra, magari sul letto, insomma, magari da qualche altra parte. In ogni caso, questo è stato il primo mio regalo di Natale e sono veramente molto felice di questo investimento. Un altro grande, grandissimo autoregalo che mi sono fatta è stato l'iPhone, il nuovo telefono. Mi sono comprata un iPhone 8 Plus da 256 GB, che sarebbe la versione dell'anno scorso. Non mi son presa i nuovi iPhone usciti perché effettivamente il prezzo era un po' troppo elevato, soprattutto perché io avevo bisogno di un iPhone con grandi capacità di memoria perché ci registro i video. E comprare uno dei nuovi con molta memoria costava veramente tantissimo. Quindi ho deciso, insomma, di fare un passettino indietro e prendermi quello dell'anno scorso. È un caso se oggi non sto registrando con quel telefono, è solo perché volevo farvelo vedere. E questo qui, semplicemente, è un iPhone normalissimo. Io prima avevo il 6 e questa è praticamente la versione grande dell'iPhone 6, non fosse che ha una fotocamera differente, dietro è fatto in vetro. E ho comprato la cover bianca. Chi mi conosce sa benissimo che il bianco è il mio colore preferito. Sì, non è un colore, però comunque in ogni caso è il mio colore preferito. E quindi non potevo non prenderlo argento, insomma, sui toni del bianco, con una cover bianca così perché mi piaceva tantissimo. Bene, conclusi i miei autoregali, passiamo a tutto il resto. La prima cosa che vi voglio far vedere è una cosa che mi è stata inviata, che ci tenevo però a farvi vedere perché comunque è stato anche questo un regalo, ed è la pennetta della NauTV. Ok, è stranissimo perché io non mi aspettavo assolutamente un'email di Sky, insomma, della NauTV in cui mi dicevano senti che ti possiamo fare un regalo. È una di quelle cose che, insomma, quando apri il canale YouTube diceva ma queste cose succedono soltanto a quelli più grandi, a quelli più famosi, quando poi succedono a te sei là che ti fai due domande tipo e quindi questo significa che sono una grande influencer. No, non è vero, non sono per niente una grande influencer. In ogni caso mi è arrivata questa pennetta e ci tenevo a farvela vedere perché è un regalo che magari potete farvi anche voi, anche dopo Natale, con i soldi di Natale, se vi piacciono il film e le serie TV. Praticamente in questa pennina, in questa box qui, se volete acquistarla, ci sono tre mesi di cinema o di serie TV. Io lo sto usando tantissimo e non credevo. Magari quando faccio colazione mi metto lì in cucina, inserisco la pennetta e mi guardo un film che non posso trovare altrove. Ho già visto Wonder, ho visto Coco, ho visto un sacco di film che ci sono lì sopra e quindi non lo so, ecco, se ve la volete comprare io ve la consiglio. Anche questo è stato un regalo veramente super super gradito, quindi grazie NauTV, inaspettata. Bene, ora che ci siamo tolti i regali un po' più consistenti, andiamo avanti. Direi di cominciare da questo regalo qui, che è questo. Ok, voi probabilmente non capirete, adesso vi spiego. Il mio computer, io ho un MacBook, purtroppo non ha l'attacco per la LAN, insomma, per internet, quindi o Wi-Fi o niente. Siccome io ho comunque una cantina, insomma, un rustico, una stanza dove non c'è il Wi-Fi, però c'è l'attacco LAN, il mio ragazzo ha deciso bene di regalarmi questo adattatore ed anche un cavetto per allungare, insomma, la presa dell'adattatore, in modo tale che così, quando ci troviamo nel mio locale, nella mia cantina, possiamo guardare tranquillamente i film dal computer, senza dover utilizzare l'hotspot. Vi faccio vedere poi i libri che ho ricevuto, che sono sei, solo sei libri. Il primo, per la verità, non è proprio un regalo, nel senso che non è stato pensato come regalo di Natale, ma io li inserisco all'interno della lista dei miei regali di Natale, perché mi è arrivato poco prima di Natale, soprattutto perché è un libro che aspettavo da tanto tempo, come appunto si aspettano i regali a Natale, ed è Gli scomparci di Chiaro di Luna, di Christel Daboss. Voi purtroppo non potete ancora comprare questo libro, perché come leggete qui, queste sono le prime bozze, che mi sono state gentilmente inviate da Edizioni Yo, appunto, la casa editrice di Christel Daboss. Questo libro è il secondo dei fidanzati dell'inverno, di cui vi ho fatto una recensione, che vi lascerò qui, insomma. Un libro che ho apprezzato tantissimo, e non vedo l'ora di leggere questo secondo libro, che uscirà nelle librerie italiane il 9 gennaio, se non è. Spero di leggerlo prima della data di uscita, in ogni caso è qui, è con me, e non vedo veramente l'ora di buttarmi a capofitto in questa storia. Ho ricevuto poi un libro che ho incominciato a leggere, che avevo nella wishlist di Amazon da secoli, che è praticamente Marguerite Duras, Il dolore. Questo libro, ho letto le prime 30 pagine, ed è veramente doloroso. Sono quattro racconti, tutti ambientati nel periodo della guerra, guerra mondiale o guerra civile, ci dice qua dietro, e io non lo so, quando leggo questi libri, quando mi trovo questi libri davanti, mi sento sempre così empatica e sofferente verso i protagonisti, che sicuramente sarà piuttosto difficile leggerlo, ma in ogni caso sono molto interessata, e quindi ecco qui. Kikgaard, Diario del seduttore. Questo libro, anche questo libro, lo avevo sulla wishlist di Amazon da tempo, e sono stata ben felice quando mi è arrivato, perché era uno di quei classici libri che dici voglio proprio leggerlo, e poi lasci lì, non lo compri mai, quindi meno male che mi è stato regalato. Io sono sempre molto curiosa del lato estetico amoroso dei grandi scrittori, mi piace tantissimo ad esempio leggere le lettere che gli scrittori o gli scrittori ci mandano ai loro amati, alle loro amate, e mi piace anche leggere i diari, le memorie degli amori, o in questo caso del seduttore, quindi questo libro sicuramente mi interesserà, e quindi niente così. La verità vi prego sull'amore di Oden, questo mi è stato regalato da Silvia, c'è qui ancora il bigliettino di Amazon, non ve lo giro, però in ogni caso c'è scritto un piccolo pensierino per te che arriva dal profondo del cuore, eccetera, eccetera. Sono sempre, mi imbarazza sempre di ricevere regali appunto da qualcuno che mi conosce tramite il canale, e non lo so, grazie mille Silvia, Silvia del canale di SissiTube, e questo libro praticamente l'ho già letto, sono delle poesie molto brevi, qui c'è la parte in inglese, qui c'è la parte in italiano, ed è veramente molto bello, My Wicked World mi ha regalato anche lei due libri, due libri che volevo tantissimo e che sono stata strafelice di ricevere, sono Bellezza Grudele di Rosamund Oge, che sarebbe un rifacimento della Bella e la Bestia, e L'incubo di Il House di Shirley Jackson, che è il libro da cui è liberamente tratta la serie tv Il House, che si trova su Netflix, che ho visto, che ho amato, mi ha spaventato, ma di questo vi parlerò in un prossimo video sui consigli di Netflix. In ogni caso, sono due libri che adoro tantissimo, ringrazio tantissimo Maria, perché anche lei mi ha mandato un bigliettino davvero adorabile, e non lo so, ragazzi, grazie, ogni volta appunto che ricevo qualcosa che mi fate voi, perché mi conoscete per il mio canale YouTube, io mi emoziono, ecco, non ci posso credere, quindi grazie, grazie, grazie. Ho ricevuto poi questo, e voi direte, che cos'è? Ve lo spiego subito, è una sottospecie di gioco da tavolo, creato con gli incipit dei libri, praticamente ci sono appunto queste macchine da scrivere, dove ci sono scritti gli incipit dei libri più famosi, e con queste cose, con queste carte, si possono fare vari giochetti, indovinare chi è l'autore, qual è il titolo del libro, la casa editrice, o anche proseguire quell'incipit e inventare una storia tutta nuova, ma potrebbe essere anche utile, per me sicuramente sarà utile, per conoscere i nuovi libri. Questo è edito da Ensemble, non conosco, però in ogni caso, la ringrazio tantissimo, perché questo gioco mi ha già tenuto abbastanza compagnia, e mi è piaciuto molto. Questa, voi direte, è una busta di soldi? No, assolutamente no, è una busta che contiene due carte del GameStop, come vedete, una di The Legend of Zelda, una normale, ma io in realtà le ho usate tutte e due per comprare i DLC di The Legend of Zelda, per la Switch, voi sapete, no, forse non lo sapete, io ho la Nintendo Switch, cioè non è che la ho, ed è il mio ragazzo, però io la uso praticamente più di lui, e ho amato, adorato tantissimo The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Quando ho visto che c'erano i DLC scaricabili, li ho voluti subito comprare, e praticamente mi sono fatta regalare queste carte del GameStop, così che potessi scaricarli. Ho ricevuto poi questo qui, che cos'è questo qui? È un power bank, è un power bank di Pusheen, mi sono strafissata con Pusheen, e quando ho visto questo power bank, sono praticamente impazzita, ne ho parlato così tanto, che hanno deciso che il mio ragazzo ha deciso di regalarmelo, è di questo verde, ed è un Pusheen sauro, e non lo so, mi piace tantissimo, adoro tantissimo, l'ho usato tantissimo, è super utilissimo, infatti ora mi devo sbrigare, perché lo devo attaccare al telefono, che è lì che si sta sgaricando, quindi adesso, adesso lo utilizzo subito e ce lo attacco. In ogni caso, dove ero rimasta, ok? Alle tazze, volevo farvi vedere le tazze, io sono un amante delle tazze, quindi quando mi regalano delle tazze, non sbagliano mai, e quest'anno ne ho ricevute due. La prima è questa qui, e è praticamente una tazza fatta a obiettivo di macchinetta fotografica, e viene con questo piattino, che potete utilizzare o per mettere la tazza stessa, oppure io lo uso per metterci i biscotti, che poi andrò a pucciare nella tazza. In ogni caso, è una tazza meravigliosa, super bella, ed è anche di plastica, io ho il problema che quasi tutte le mie tazze spariscono quando mia madre le lava, perché le rompe tutte. Questa è di plastica, quindi non può romperla, anche se è un po' difficile scaldarla a microonde, perché la plastica è veramente dura e spessa, quindi ci vuole un po' di più. Io la sto usando tantissimo, e non lo so, cioè è bellissima. L'altra tazza invece che ho ricevuto è questa. Ve l'ho fatta vedere su Instagram, e siete impazziti tutti chiedendomi dove l'avessi presa. È una tazza con su scritto Unicorn Tears, cioè lacrime di unicorno, con questo corno, ed è tutto opalescente, ok? Le amiche che me l'hanno regalata mi conoscono davvero molto bene, perché sanno che amo gli unicorni, amo i colori, amo l'opalescente, quindi non lo so, cioè questa veramente grida il mio nome. Purtroppo farvela vedere è difficile perché si vede tutto il riflesso di cosa c'è fuori, in ogni caso è fatta così. Questa non può essere messa a microonde, non può essere neanche lavata in lavastoviglie, però è stupenda e non lo so, è bellissima. Insieme a quella tazza unicorno c'era questa collana unicorno, chiaramente abbinata, voi non la vedrete mai, in ogni caso questo è un unicorno, che dovrebbe cambiare colore con l'umore, in realtà non cambia affatto colore, ci ho provato, sono giorni che ci provo, però io intanto lo tengo, è abbinata, è un unicorno, è una collana, bellissima. Continuando sulla scia unicorni gioielli, volevo farvi vedere l'ultimo charm Pandora che mi è stato regalato, io ho il bracciale Pandora, forse qualcuno di voi se lo ricorderà da vecchi video, mi è stato regalato questo charm qui, che non si vede, non si vedrà mai, ed è un unicorno, è un unicorno peluscioso, insomma, avevo già l'unicorno questo qui, ma gli unicorni non bastano mai, e quindi mi è stato regalato questo qui, super peluscioso, super carino, super fluffy, che ho inserito appunto subito nel bracciale, e niente. Mi è stato regalato poi, con mia grandissima gioia, sorpresa e felicità, il portamonete dello snaso, ora ditemi se il concept non è meraviglioso, lo snaso sapete tutti, se avete visto i film di animali fantastici, è quell'animaletto che ruba sempre i soldi, le cose di valore, e se le mette nella tasca, e quindi praticamente questa è la tasca dello snaso, dove lui mette le cose di valore, adesso ci sono veramente i soldi, in ogni caso è bellissimo, lo snaso è cucciolissimo, è pelosissimo, e quando l'ho vista sono veramente impazzita, perché è un regalo totalmente azzeccato. Funko Pop, la madre del mio ragazzo mi ha regalato questo, il Funko Pop di Connie, il mostro degli ormoni femminile di Big Mouth, ho visto Big Mouth, sì, anche qui ve ne parlerò nel prossimo video sui consigli di Netflix, e non lo so ragazzi, mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciuti i personaggi e Connie è meravigliosa, quindi quando mi è stato regalato sono stata super felice, perché i Funko Pop mi piacciono tantissimo, mi piace lei come personaggio, e dunque felicissima. E adesso infine i calzini, voi sapete, io sono una di quelle persone che ha tantissimi calzini, di tantissime tipologie, quindi anche qui quando mi regalano i calzini, non sbagliano mai, perché mi piaceranno sicuramente, mi sono stati regalati i calzini dello stregatto, il fratello del mio ragazzo mi ha regalato quattro paia di calzini stregatto, che ora vi farò vedere. Lo stregatto è un personaggio che mi piace tantissimo, di uno dei film cartoni che più preferisco, Alice nel Paese delle Meraviglie appunto, quindi mi sono piaciuti tantissimo, e sicuramente li metterò magari quest'estate, perché sono calzini estivi, però sono bellissimi, mi piace tantissimo il colore, mi piacciono tantissimo le immagini, mi piace tantissimo lo stregatto, e vabbè, niente, cioè non ho proprio nient'altro da dire, se non che sono fantastici. questi qui sono i miei preferiti. L'ultimo, l'ultimo regalo che vi faccio vedere e poi vi giuro ho finito, sono sempre dei calzini. Calzini a forma di sushi, cioè, 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 paghiamone. Quando ho visto questo regalo non capivo, perché non capivo per quale motivo il mio ragazzo mi avesse regalato una scatola di sushi, poi guardando bene ho visto che sono dei calzini, io non li ho voluti smontare da qui, perché volevo farveli vedere interi, però adesso li dobbiamo aprire perché non posso tenerli qui in eterno, non posso mettere questa, questa cosa per bellezza, insomma, quindi adesso ve li apro. C'è, ci sono proprio le bacchette, ci sono le boccettine e c'è anche l'erba finta, però, vabbè, adesso purtroppo dovrò smontarli, non riuscirò mai a rimetterli in questo modo, ma insomma, sono calzini e vanno utilizzati. Ah, 3, 2, 1, no, no, è proprio salmonoso, che figata, credo siano stati piegati a mano e soprattutto sono, sono invernali perché qui vedo il peluche, sembrano caldi, questi invece come si srotolano? Ah, c'era, c'era un laccetto che li tenevo uniti, giustamente, quindi ora li apro e, oh, che carini, questo è molto tasso rosso, che belli questi a tonno, cioè a tonno, insomma, del tonno, non so come, come dirli e questo è l'altro, gli ultimi e poi la scatola del sushi è vuota, io non volevo smontarli, volevo tenerla così, però capisco bene che in quel modo è totalmente inutile, mentre così magari possono essere usati, cioè saranno sicuramente usati e non lo so, e sono meravigliosi. E niente, dopo questo unboxing dei calzini a forma di sushi, direi che il video è finito, sono tantissimi regali, spero vi siano piaciuti, fatemi sapere cos'è che avete ricevuto voi qui sotto, io vi mando un bacione enorme, ci vediamo ad un prossimo video, buone feste, buon capodanno, perché quando sto registrando questo video non è stato ancora capodanno, vabbè, in ogni caso, buona epifania, buon tutto, vi mando un altro bacione enorme, ciao!